E' iniziato stamane da Piazza della Scala a Milano il Mese Rosa per la prevenzione del tumore al seno, la manifestazione promossa dalla Lilt, Lega Italiana per la lotta contro i tumori. In questo camper le donne possono effettuare gratuitamente una visita medica al seno a scopo preventivo. L'unità mobile si sposterà ogni giorno e girerà nell'Interland milanese da Monza a Legnano, da Cusago a Bareggio, da San Donato a Paderno Dugnano. Tra le iniziative è anche lo shopping salutare nei negozi di via Monte Napoleone che devolveranno il 10% dell'incasso a favore di questa campagna. Ricordiamo che il cancro alla mammella colpisce purtroppo ogni anno 45.000 donne. Tra le milanesi i nuovi casi di tumore al seno sono circa 1.300 ogni anno e la città ha valori di incidenza tra i più alti in Italia ma ha anche una migliore sopravvivenza. I dati relativi alle cure sono confortanti. La sopravvivenza dopo cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto l'87% delle donne ammalate. Insomma diagnosi precoce e screening stanno dando risultati di enorme rilievo. Il camper girerà e saremo a disposizione comunque tutto il mese e in particolare noi siamo sempre a disposizione negli nostri spazi prevenzione della Lega Italiana Tumori. La prevenzione secondaria cioè la diagnosi precoce è il gradino primo per poter lottare e guarire definitivamente. Il sondaggio parla chiaro e dice che però se preso in tempo il tumore al seno può essere anche guaribile. Questo è importante, più dell'80% va giusto anche comunicato appunto la prevenzione e la sua importanza e quindi da donna sono felicissima di poterlo fare.